Ed eccoci qua pronti operativi in questa bellissima mappa con il bandit perché noi andremo a triccare la porta e non li faremo passare sti maledetti Quindi avanti così, subito un bandit così vedono che l'abbiamo preso forse e prenderanno qualche counter così noi triccheremo tutto e ci divertiremo come dei mappi Allora, qualcuno di qua, andiamo, facciamo, no, facciamo così raga Facciamo così, perdono un po' di tempo in teoria, l'importante è far perdere tempo alla gente Qua chiudo perché dei random non mi fido quindi non so se qualcuno magari passerà sneaky sneaky e via dicendo quindi la chiudiamo Ok E ora aspettiamo Vediamo, ognuno fa il suo Ok, lì mi hanno rinforzato, ok, perfetto, già uno crepato Uno injured, ok Parlano anche al microphone, quindi top colossale Non credo che Non credo che Ok Bravissimi Teniamo Devono loro plantare, devono loro entrare, devono loro piccare, devono far tutto loro Noi dobbiamo solo tenere, bene Non c'è problema Resta solo un operatore alleato Vedo il pallino rosso Non sento niente Che sono spariti Tulipano Mi sembrava che avesse passato la finestra Un po' troppo statico sono rimasto lì Dovevo piccare quando avevo visto subito il pallino rosso lanciando il C4 da là e riandando dall'altra parte dove ero prima Allora, rifacciamo tutto il setup del site Oryx, Melusi, Doc e il Vigil Molto bene Allora, andiamo da questa Piccato, ci stava un macello con il claccino lì Però va bene Però va ben così, raga Carburiamo con calma Avanti Ne metto una anche qua Qui va bene, dai Postarci una cosa così Qua però, raga, avete fatto le vostre cose Molto bene Qua avete chiuso Io qua chiuderei anche Prima avevano il giacallo, vero? Però magari qua si rinforza, raga Molto bene Va bene Va bene Ricarico Pingatemi Ho già usato il C4 Pingatemi che stanno facendo le cose Sto sentendo l'empo Ma non è che Sono dall'altra parte L'ultimo attaccante rimasta in vita Ti hanno vinto La tua posizione è stata comprometta Ma non posso più metterlo Ma non posso più metterlo Dispositivo in gioco Troppo c'era L'ultimo attacco 10 secondi e via Un operatore alleato rimasto Ancora 5 secondi Al def Io non capisco Prima parlano al microfono Questi e poi non parlano più Nelle situazioni più Concitate Non lo so Raga Però è andata a buon fine Perché se sbagliavo anche questo clutch Anche no 2 AFK Mi fa piacere Quindi proviamo noi A set upare un attimo Il site così Sperando non facciano cose particolari Fate lì il coso raga Non sento passi Degli altri Perfetto Provo a baricare un attimo Qua dietro Il site non è per nulla set up E siate maledetti Vara Forza e coraggio Proviamo a fare così Ce la fate raga Io provo a fare così Non mi fido di voi Neanche Per niente Va baricato Un'altra Ancora AFK Non hanno rotto nemmeno La radio No Non sento niente Non sento niente Non posso più triccare Non posso più triccare Vabbè Io volevo farmi il buco Per vedere in corridoio Bravissimi Ho dato la mia posizione Raga non piccate Non piccare Vabbè Squadra d'attacco eliminata Va bene raga Se ci stavamo Se ci facevamo noi Gli affari nostri L'era un po' lino meglio Ma va bene così Forza e coraggio Col quarto round Del potere Del potere Vai Ci siamo tutti Tutti belli pronti operativi Uno là Uno là Uno là Uno qua Perfetto La squadra Va a prendere Uno è già morto Ah questo pusha dentro così Bene mi piace Aspetta che ti drono Se vuoi Occhio ai Capcan Occhio ai Capcan Qua ci sono altre due Bomba individuata Bomba individuata Bomba individuata Bomba individuata Bomba individuata È attivo Ottimo nemico rimasto Ultimo uomo Per la squadra Alleata La squadra D'attacco Ha eliminato I difensori Con il buco Chi ha fatto Quello stordito Col C4 Top Riprendiamo Ying Che devo Fare tutto Da solo Devo Flashare la gente Fare i diversivi Plantare E coprire Il defuser Cioè devo fare Tutto raga Dronare Tutto Tutto Indicare le Tutto Tutto Io devo fare Ci manca solo che porto le Borracce E sono a posto Però stando sotto La sitfa Si complica Un attimino Io devo per forza Prendere ace Ram Da sopra Va bene Va bene Non prendevo Un breacher Da tantissimo Tempo Occhi aperti Per il nemico Bandit Non morirmi Ti prego Si bandit Coso Faccio Grandissimo Prima kill Mamma mia Che potere Colossale Fammi vedere Qui come Alla situa Qui vogliono Sbombardare Tutto Voglio Bullet Recarren No Che smarciata Che smarciata Mamma mia Una free kill Smarciatissima Con anche il mirino Ma dai Ma come si fa Raga Ma abbiamo il toucher Ne ho lanciato uno Da una parte E un altro Dall'altra Dai 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 Raga Concludete voi Io devo fare Un fail Bravissimi Bravissimi Vai Massacrateli Bravissimi Confide in voi Quattro Contro uno Ripeto Quattro Contro uno Un barbonazzo Dentro Sta plantando Questo Questo Penso a fare Point Mettiti nell'angoletto E fattigli affari Tuo easy Bravissimi Questo Trolla Con la pistola Quattro Contro uno Vediamo se La claccia O meno Questo Ammazza Il compagno Di squadra Qui Passa Il nemico Questo Ammazza Il toucher E il nemico Sa dove IQ E ammazza Anche IQ Ah buono Mamma mia Raga E' andato E' andato Raga Ce lo siamo levato Dalle scatole 6-2 Potevamo fare Qualcosina in più Anche Ma va bene Abbiamo fatto il nostro Abbiamo triccato Abbiamo clacciato Plantato Disinnescato Fatto Va bene tutto Bravi 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 Mi date qualcosa Non mi date niente Neanche un pollicione Eh non ve lo do Ah bravi Allora te lo do Anche a te IQ Così tutti ce l'hanno Quanti points Andremo a prendere 24 Allora te lo do